Cicero Romao Battista Cicero, 1844-1934, sacerdote cattolico brasiliano. Lo zelo apostolico e la vita virtuosa creano intorno a lui la forma pensiero di un santo e numerosi pellegrini si stabiliscono a Zeiro, dove vive, per beneficiare delle sue benedizioni e guarigioni. Ma le autorità ecclesiastiche, sempre diffidenti nei confronti dei miracoli, sospendono Cicero dalle mansioni religiose. Tuttora la tomba e la statua di Cicero sono meta di affollati pellegrinaggi. Perché? Perché il taumaturgo che è tale per evoluzione raggiunta, a prescindere da qualsiasi fede che la gente crede l'abbia reso taumaturgo, infonde la sua energia in chi ha la fede di riceverla e, se il suo karma lo permette, il malato si autoguarisce. Grazie. 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 Grazie.